A Montesilvano si spara per gelosia e quanto emerge da una prima ricostruzione dei fatti accaduti ieri sera, poco dopo le 20.30. 6 o 7, i colpi esplosi in via Mosa, una piccola traversa di via Senna. Un proiettile calibro .22 sparato da uno dei due ragazzi a bordo di uno scooter ha raggiunto un .23enne che è rimasto ferito alla gamba a sinistra e poi ricoverato al santo spirito di Pescara in condizioni per fortuna non gravi. Le liti tra le due famiglie di etnia a Roma sarebbero iniziate la mattina per proseguire nel pomeriggio. I carabinieri del nucleo operativo di Montesilvano sono intervenuti ma a quanto pare è servito a poco. Hanno agito in 5 o in 6 un regolamento di conti, insomma in piena regola che pare andare un po' al di là del movente passionale. Il gruppo ha raggiunto il .23enne e la sua famiglia e lì si sarebbe dovuta consumare la tragedia. A Montesilvano intanto sono diversi gli immobili confiscati alla criminalità e giusto nella zona in cui sono accaduti i fatti c'è una pratica in fase di concretizzazione. L'ultimo immobile sequestrato in ordine di tempo è un appartamento in via Isonso che abbiamo avuto dall'Agenzia per le cose sequestrate in questa primavera. In precedenza avevamo avuto in concessione anche altri immobili, un appartamento in via Vestina, dei garage e un appartamento in via Agostinone e antecedentemente addirittura degli appartamenti in via L'Aquila, in via Adige e soprattutto in via Mincio. Adesso cosa sono diventate queste residenze? Queste residenze sono per lo più quasi tutte a disposizione dell'azienda speciale che si occupa dell'assistenza alle famiglie bisognose e sanno loro come utilizzarle al meglio. Noi non abbiamo fatto altro che essere il tramite per questa consegna.